Un cordiale buongiorno da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla FIPILI dove a causa di lavori si registra un chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in direzione Firenze e rallentamenti in direzione Livorno. Da segnalare anche coda in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze a causa del traffico intenso. In A15 rallentamenti per lavori tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Uno sguardo al raccordo Siena-Firenze, anche qui rallentamenti ma a causa di lavori tra Tavernelle e Sandonato in entrambe le direzioni. Viabilità della città di Firenze a causa di lavori che richiedono un restringimento di carreggiata con senso unico alternato rallentamenti in via Bolognese all'altezza di Villa Finali in entrambe le direzioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!